Ti salutiamo regina, madre di misericordia, sei tu la nostra difesa, tu ci proteggi signora. Portaci in braccio, tu madre, verso il santo tuo figlio, stringici forte la mano, tu dolce clemente, tu dolce clemente. E così, fratelli e sorelle, iniziamo la novena in preparazione alla memoria della Beata Vergine Maria del Rosario di Pompei. Mettiamoci in preghiera, ma soprattutto alla Madonna affidiamo tutto di noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Vergine del Rosario di Pompei, ottienici di contemplare, vivere e irradiare nel mondo intero il mistero del Cristo Gesù e la grazia della comunione trinitaria. Vergine Maria, insegnaci a pregare, insegnaci ad accogliere e a meditare la parola di Dio. Fa che con i misteri del Rosario impariamo a rendere grazie e a stupirci dinanzi alle meraviglie che opera il Signore. Madre dell'amore, aiutaci a vivere il Vangelo. Madre del soccorso, guarda ai nostri bisogni. Madre della tenerezza, soccorrici con il tuo amore materno. Madre della speranza, rialzaci tutte le volte che cadiamo. Madre nostra cara, noi non sapremo a chi rivolgerci se non a te. A te che sei la nostra mamma. A te che tuo figlio Gesù ti ha consegnato a noi. Madre Maria, prega per noi, ora, nel momento del bisogno della prova e della nostra morte. Affidiamo a Maria le nostre preghiere. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Beata Vergine Maria del Rosario di Pompei, prega per noi e per il mondo intero. Amen. Grazie. Grazie.